Buongiorno e buon sabato dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla FIPILI, dove per lavori sono possibili disagi tra la Strassigna e Ginestra Fiorentina in entrambe le direzioni. A Firenze, dal lunedì, cambio di senso in via a Rigo da Settimello, la strada diventerà verso via d'Annunzio e si completa così il riassetto della viabilità in zona Mezzetta, San Salvi. Lunedì torneranno a scuola anche gli studenti delle superiori, nuova fase per quanto riguarda l'organizzazione del trasporto pubblico, aggiornamenti sui canali social di Muoversi in Toscana. Si ricorda che il numero verde per gli utenti del TPL è 8570530. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!